Bentornati su LVGA TV ragazzi, bentornati ad una nuova reaction di una nuova animazione su Dokkan Battle Oramai siamo partiti spediti con questo format e continuiamo così Allora, oggi è uscito un nuovo Tenzing, rapidissimo andiamo a vedere com'è la carta Eccolo qua, Tenzing LR Int, traduciamo un attimo Ultimo cannone Ki Kong, introduzione allo stato di Tianjin Tang Attacco e difese aumentati ad ogni attacco e ki up per 10 turni dopo l'apparizione Solo 10 turni A seconda della quantità di HP rimanenti verrà attivata anche la mossa speciale Bene, quando viene attivata la mossa super speciale puoi mirare a un colpo Non perdere l'abilità attiva che infligge il massimo danno e aumenta il tuo ki e difesa per un turno Carta carina, carina, ci sta? No, devo dire un gran bel disegno, mi piace, fatto molto bene Hanno rispettato il nostro buon Tenzing Andiamo a vedere la traduzione di Goresh sull'abilità della carta Questa è roba in inglese però Uh, Saiyan Saga categori ki 4 e attacco, difese e salute HP 130 130, mi aspettavo 150 Vabbè, ki più 3 i primi 10 turni Vabbè, chi se ne frega? Siamo qua per... Ormai lo sapete, non ce ne frega niente delle statistiche No, scherzo, un po' ce ne frega Siamo dei giocatori di Dokkan Seri e veri Però a noi quello che ci interessa sono le animazioni Le perle di questo gioco Andiamo a vedere Tenzing come l'hanno fatto Vediamo se c'è anche una nuova host VAMOS Bello, bello, bello Nuova song comunque mi pare Ah, c'è pure Nappa Ah, perché gli deve spezzare il braccio Ok Non mi aspettavo di vedere Nappa disegnato così bene C'è un altro personaggio disegnato così bene Nella carta di un altro No, poverino Fatta bene qua, è fatta molto bene Questa sarà l'active skill O la mossa finale Ho incazzato Bella questa Eh sì, è vero, perché poi la fa con un braccio Perché non ha l'altro Oh, cazieria, tanta roba Bella, bella Volevo rivedere Sinceramente qua mi aspettavo che Nappa gli spaccasse il braccio Cioè che gli spezzasse il braccio Taglia, se il rettaglio lo taglia con un pugno Roba da mostri Qua, boom Però volevo rivedere un attimo Fatta davvero bene Che bel culo Nappa Carina anche la canzone sotto Ma vedete che queste scene I doppiatori le ridoppiano O prendono Le frasi e i versi dall'anime Perché è doppiata bene Qua però spettacolo Madonna Bella, 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 bella Bella, bella Mi piace Bene ragazzi, questo è tutto Direi anche che questa volta ottimi disegni Si superano ogni volta Sono curioso Sono proprio curioso di vedere cosa tireranno fuori Quando uscirà l'anime Ci porteranno nuovi personaggi Nuove trasformazioni Aiuto Chissà quando finirà Dragon Ball Secondo me mai Però anche lo stile dei disegni Proprio in stile inizio di Z Si è visto Si vede E ci piace, ci piace Ragazzi, grazie di essere stati con me Questa era la mia reazione A questo nuovo Tensing Ci vediamo al prossimo nuovo personaggio Su Dokkan Battle Japp E lasciate un bel like E iscrivetevi Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli